bello a tutti ragazzi sono mario bollero e oggi giocheremo a fortnite ah devo fare un annuncio importante domani uscirà un nuovo video di cui io gioco a gt online domani usciranno ben tre video perché io non sono come il canale di mia mamma io gioco tanto come vedete sono nella session 9 aspetta vedete male così vedete non notate che quasi tutti i giorni non faccio kill perché non gioco mai a fortnite che cosa è successo ha acceso in un corso wow wow che cazzo è successo ecco fatto cosi non vedete meglio cosi gioca mettiamo vai intanto facciamoci un ballo come vedete se non c'ero al zero b bak b qui perchè non è che è iniziato ma non c'è altro b bako b bako perché non è che coprovo tra le schiena Un'informazione, sono cose private, beh, adio, fortnite, come vedete siamo i pochi, non è che utilizzi molti fucili, oggi mi impegnerò. No, boh! Io andrei a Pinacoli. C'è pratica, io andrò là. Come vedete siamo in una serie a 9. Guardate, dato che mi killano, se mi killano li farò fuori, davvero. Dannazione. Voglio salutare... Se... Se... Se non mi fido... Tutta questa gente mi vuole che io... faccia il culo a tutti gli... No, andiamo dove ci sono gli amici. Se non mi fido non è colpa mia. Uda questa gente vuole che io... Faccia il culo a tutti gli amici. Come vedete sono senza armi. Adesso prendo un'arma. Dai, ce la facciamo! E il più figo di tutti è ovviamente questo. Ma... Ora me lo ricordo. Ma in pratica voglio andare a prendere il culo. Perciò... Poi... Poi... Devo... Prendere pure quest'arma. E un fucilotto. Bene. Adesso... Adesso saliamo. Guida. Dai! Ricarica! Wuhuu! Ce la facciamo! Bru... Bru... Bruissimissimo! Noi siamo... Ah! Comunque voi siete i bot! E questo momento... Devo... No! Voi siete i miei bot! Guardate come faccio io! Wuhuuu! Ah! Ti vengo a prendere! Ti vengo a prendere! Se non mi fido non è colpa mia! Oggi andiamo a prendere! Oggi andiamo a prendere! Oppure la zona più privata di fuori. Ovvero dove ci sono gli amici! E qui ti devi fidare! Vero bro? No! Che voi tra... Mi tradite con un altro giocatore! Prima di tutto... Devo scendere! Fai togliamolo a prendere! Dai, sali! Fai togliamolo a prendere! Dai, sali! Fermo lì! oh bro sono uno youtuber bro state guardando la mia diretta no fermo fermo dove è andato oh fermo che devo farlo fermo 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 te l'ho detto io questo è meglio di sbrigarci andiamo oh porca puttana wow wow fallo fuori oh ah 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 l'ho fatto fuori no 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 doveva succedere infatti voi l'avevate visto cioè la diretta mi fanno fare figure di cacchio in diretta ora fare il cerchino mi sono allenato il sacco a gita online dove dove eccolo convinto convinto ok 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 ecco lì guarda lì ok 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 oh my god oh my god ecco ecco Enemico 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 Non ci risparo Ah ah Dannazione C'è chi? Quello li è mio Non è giusto per qualcuno Ma lo rubi Non ci risparo Non ci risparo Non ci risparo Va bene Un giocatore Non ci risparo Non ci risparo Un Due Ciao Qualcuno Qualcuno mi ha scioltato Merda Ma C'erano loro strumenti Non ci risparo Non ci risparo Comunque per oggi È tutto Ciao 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 Ciao